All'alba, armati di ceste che portano in spalla, centinaia di uomini scendono nelle viscere del vulcano. Qui sono noti come gli uomini forti di Java. Fonte di reddito e di prestigio, malgrado le condizioni estreme e precarie di lavoro, l'estrazione manuale di zolfo è un'attività molto considerata. Sarno è un minatore esperto, ha trascorso tutta la vita in questo inferno vulcanico. Lavoro qui da 28 anni senza casco né guanti. Non ho mai avuto problemi, ci sono abituato. I minatori sono consapevoli del rischio. Ma al tempo stesso sono attirati dalla risorsa. Catastrofi potenziali si trasformano in possibilità per le popolazioni indonesiane. Un ciclo che da millenni e in ogni parte del mondo spinge l'uomo a stabilirsi nelle aree vicine ai vulcani. Grazie. Grazie. Grazie.